Ehi la, allora siete pronti per i cyberattacchi? Allora in questo video parliamo un po' di cose, ma in particolare di cyberattacchi e alternativa ai social, a Telegram e cose di questo tipo. Come sempre io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi sui vari social, in particolare Telegram, Te Consapevole per quanto riguarda la tecnologia e Te Consapevole Cripto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti interessano i miei approfondimenti ti consiglio anche di dare uno sguardo alla Te Consapevole Academy. Ok, allora iniziamo subito. Ho pubblicato sul mio secondo canale questo video che riguarda il riconoscimento facciale per entrare nel supermercato. Qualcuno mi ha scritto che questo, vabbè, non era riconoscimento facciale, eccetera, e vi faccio vedere questo video e poi facciamo qualche commento a riguardo. Come vedete questo è un supermercato italiano. All'inizio uno non viene aperto dalla porta, poi ho tolto la mano dal mio viso, dall'occhio e mi ha aperto la porta. Ora qualcuno può dire questa cosa, misura la temperatura, non è qualcosa di strano. Tuttavia questo totem, questa tecnologia che potete vedere qua, vedete questa scritta? Questa scritta è Dawa, che è uno dei principali produttori cinesi di telecamere di sorveglianza. Questa cosa dal punto di vista tecnico è molto interessante perché non misura semplicemente la temperatura, è in grado anche di riconoscere il viso. Che poi queste informazioni vengano effettivamente catalogate o meno, questa cosa non la sappiamo, non sappiamo cosa accade dietro le quinte. Di fatto se andiamo a vedere il sito ufficiale di Dawa, dal punto di vista tecnologico sono veramente telecamere interessanti perché sono in grado di riconoscere il viso singolarmente di diverse persone. Sono in grado di capire se queste persone hanno la mascherina o meno. Di fatto una volta che ci sono queste tecnologie non sappiamo se in futuro effettivamente abiliteranno le funzionalità che hanno appunto queste telecamere. Allora queste telecamere sono in grado di distinguere lo staff dalle persone normali che entrano in un certo luogo pubblico. E ovviamente se sono integrate anche con l'apertura delle porte, di fatto ti permettono di fare entrare alcune persone oppure di non farle entrare. Quindi l'integrazione può essere veramente pesante. Quindi dal punto di vista tecnologico sono interessanti. Dal punto di vista della censura veramente sono delle cose che potrebbero trasformarsi con qualche aggiornamento in qualcosa di veramente inquietante. Queste cose normalmente adesso vengono vendute appunto nei centri commerciali, nei luoghi pubblici per distinguere le singole persone che vanno in un certo luogo pubblico. Quindi per non conteggiare i lavoratori che invece sono diversi dai clienti che entrano. Questa cosa utilizza l'intelligenza artificiale e ci sono anche tecnologie open source che fanno questo tipo di cose. Una di queste free gate che avevo accenato in qualche mio video. Di fatto queste cose potrebbero veramente essere inquietanti e già adesso fanno delle cose abbastanza importanti. Qua non so perché hanno messo anche il simbolo di bitcoin ma non c'entra nulla. Qui viene detto che appunto ci sono tante informazioni che non hanno valore. Ma ovviamente se sei in grado di catalogare queste informazioni ovviamente puoi fare delle analisi che prima non si potevano fare. Per chi mi segue un po' questa cosa dei cyber attacchi, il fatto di non dipendere da un produttore eccetera. Sono tutte cose che Klaus Schwab ha scritto nel suo libro. Andatevi a vedere la mia recensione di questo libro se ancora non l'avete vista. E che dire, le applicazioni sono tantissime. Quindi controllo di accessi. Quindi non c'è bisogno di microchip o tessere varie se diciamo l'identificativo diventa il viso della persona. Quindi far scaltare degli allarmi se si presentano all'ingresso certe persone. Il tracciamento della faccia all'interno di un luogo pubblico se ovviamente ci sono più telecamere. La ricerca se una certa persona è stata all'interno di un luogo nel tempo. Ovviamente memorizzando queste informazioni. Il fatto di riconoscere i clienti VIP che entrano in certi luoghi. La demografia. Quindi capire magari in certi orari se ci vanno persone di una certa età piuttosto che di un'altra. E cose di questo tipo. Quindi le tecnologie già ci sono. Qua non è complottismo. Provatele. Sono delle cose che sono normalmente in vendita e potete implementarle. Però appunto quello che sta accadendo in questo periodo è inquietante anche per altre ragioni. C'è il conflitto tra Russia e Ucraina. E qui abbiamo visto delle notizie abbastanza pesanti che prima sembravano fantascienza ma adesso sono diventate realtà. In realtà secondo questa notizia di Coindesk Visa, Mastercard e Paypal. Quindi i vari sistemi di pagamento online si sono messi d'accordo per sospendere la Russia dai pagamenti elettronici. Questa è una cosa abbastanza pesante. E questa cosa è interessante perché nel momento in cui la Russia è isolata dal resto del mondo e magari qualcuno vuole trasferire dei fondi da un paese all'altro, con o senza euro digitale di fatto queste persone devono passare dal rublo digitale a una cripto e poi dalla cripto magari all'euro digitale o altre cose. Quindi questo precedente fa sì che le criptovalute secondo me acquisteranno diciamo più importanza, non necessariamente valore. Di fatto sono l'unico sistema che ci permette di passare da un mondo digitale all'altro senza dipendere da uno dei vari macro blocchi che appunto controlla la ricchezza, la moneta di un certo blocco. Quindi cose abbastanza importanti. Qua cosa viene detto? Che appunto Visa, Mastercard e Paypal sospendono le operazioni in Russia proprio per la questione dell'invasione dell'Ucraina. Quindi anche magari dei cittadini russi che non c'entrano nulla, non possono più utilizzare questi servizi. E la cosa curiosa è che l'Ucraina ha chiesto anche a Coinbase, Binance, Wobi, Kucoin, Bybit, Gate.io di appunto sospendere i servizi agli account russi. Quindi anche gli exchange di criptovalute vengono buttati in questa mischia. Tuttavia la banca centrale russa dice che comunque i pagamenti digitali nazionali, quindi con il loro circuito Bancomat, queste cose continuano a funzionare. Ovviamente il problema poi è l'interazione con i paesi al di fuori della Russia, come è scritto qua appunto per... Viene scritto chiaramente che le transazioni cross border, quindi con i paesi esterni, non è detto che funzionino. Quindi anche qua altro precedente, autarchia, quindi c'è la tendenza a vedere sempre di più questi macro blocchi che io in passato avevo definito neo-medioevo e sarà interessante vedere poi quali saranno effettivamente questi blocchi perché alcuni sono già evidenti adesso, altri magari si formeranno in futuro, magari tra paesi non allineati, cose di questo tipo. L'altra cosa curiosa è quella che ha a che fare con i cyberattacchi che non sempre sono fatti da entità di hacker, cose di questo tipo. Magari potrebbero essere appunto dei blocchi, delle ritorsioni proprio a livelli di stato, tra stati. Quindi questa cosa anche è da tenere in considerazione. Quindi da una parte i paesi, diciamo, occidentali bloccano la Russia, dall'altra la Russia potrebbe fare qualche ritorsione tramite il suo antivirus Karspetsky che era stato appunto ipotizzato da qualche parte. Ovviamente nel momento in cui dovessero arrivare degli aggiornamenti, questi aggiornamenti potrebbero cambiare le finalità di questo software. Quindi, diciamo, la paura è legittima, poi bisogna vedere effettivamente se questi software inizieranno a comportarsi in modo diverso. L'altra cosa sempre interessante che sta accadendo è che Telegram sta censurando alcuni canali Telegram per gli occidentali, per esempio Sputnik, che appunto è un'agenzia di news russa che però trasmetteva anche in italiano. E quindi questi canali non sono più visibili su Telegram se voi utilizzate Telegram con un numero italiano, quindi numero telefonico di cellulare italiano. Ok, sempre su questo filone, l'altra cosa che vi avevo linkato sui miei canali Telegram che è abbastanza curiosa è quest'articolo, allarme lanciato da Umberto Rapetto, generale della Guardia di Finanza, per 12 anni a capo del GATT, che dice che fate presto, l'Italia è già sotto attacco. E tra le cose ipotizzate in questo articolo c'è questa frase presto potremmo trovarci l'operatore della banca che non riesce a darci soldi. Ora che questi attacchi siano veri o presunti, quindi dei pretesti per bloccare i pagamenti elettronici, ci sono, pian piano ce lo stanno dicendo, quindi anche qua comportatevi di conseguenza. Se dovessero accadere queste cose non potete dire che nessuno ve l'aveva detto. E altre cose che vengono specificate e interessanti in questo articolo. Cosa bisogna fare? Mettere presto le informazioni importanti su supporti di memorizzazione offline, quindi non collegati ad internet, fate backup, da conservare in cassaforte e da aggiornare in modo costante, lasciandoli irraggiungibili dall'esterno. Non basta il cloud. E questo è per tutti quelli che pensavano che il cloud era la soluzione per ogni problema informatico. Ok, allora cosa fare? Allora alcune cose le ho già dette magari in qualche video passato, però le ripeto, la prima cosa secondo me è quella di utilizzare un sistema operativo che non dipende dal nostro ID, che può essere appunto il numero di cellulare oppure l'email, perché se le cose dovessero andare veramente male, anche queste informazioni potrebbero essere utilizzate contro di voi. Quindi il consiglio è sempre lo stesso. Se potete, passate a Linux. Quello che normalmente consiglio è Debian, se volete il massimo della stabilità. Tuttavia ci sono anche altri sistemi operativi Linux come Ubuntu, che è quello diciamo più user-friendly, quello più standard, diciamo anche supportato da terze parti, oppure Mangiaro, che è un sistema operativo basato su Arch Linux che vi permette di avere molti software per Linux sempre aggiornati. Quindi Debian dà più importanza alla stabilità del software, Mangiaro dà più importanza al fatto di avere le ultime versioni del software. Questo dipende un po' da voi. Ovviamente magari non tutti possono fare questo tipo di passaggio, quindi se non potete farlo, quello che vi consiglio è almeno fare quella procedura che viene chiamata Windows Deblot, quindi togliere delle applicazioni, dei servizi che non sono strettamente necessari al funzionamento del sistema operativo. Ovviamente altri vantaggi dell'utilizzare Linux e che molti software open source gratuiti sono integrati in modo molto più semplice rispetto al fatto di installarli magari su Windows. Come dicevo prima, non è un qualcosa per tutti. Ovviamente il sistema operativo è diverso. Sarebbe come imparare un'altra lingua, quindi tenete conto anche di questo aspetto. Altra cosa interessante che potete fare per prepararvi a questa situazione che peggiora sempre di più è quello di limitare i servizi di Google o anche di altre società americane, Nato, eccetera. Quindi quello che potete fare è magari utilizzare dei servizi che non si trovano fisicamente in paesi che potrebbero appunto applicare queste restrizioni che ogni tanto vengono fuori. e anche qua è interessante vedere poi questo tipo di restrizioni come potrebbero essere implementate nel senso capire quali sono effettivamente questi macro blocchi e secondo me una cosa che è uscita che potrebbe farci capire un po' meglio è come hanno votato i vari paesi diciamo sul conflitto tra Russia e Ucraina. Come vedete la gran parte dei paesi si è allineata diciamo alla narrazione occidentale quindi sono quelli verdi tuttavia avere la maggioranza dei paesi non significa avere la maggioranza della popolazione per esempio in questo contesto che è appunto a livello ONU quindi risoluzione che chiede alla Russia di fermare il conflitto tra Ucraina e di riterare le truppe abbiamo i verdi quindi gli occidentali poi abbiamo quelli più legati al blocco della Russia che sono questi qua rossi quindi Bielorussia Corea del Nord Eritrea Russia e Siria e poi abbiamo molti paesi gialli che sono quelli che attualmente non si sono schierati e tra questi ci sono appunto la Cina l'Iran e appunto ci sono moltissime motivazioni perché questi paesi non si sono schierati di fatto se vogliamo già provare a immaginarci questi tre gruppi magari ha senso dare uno sguardo a come si sono comportati a livello ONU questo significa che se ci dovesse essere un medioevo digitale diciamo ogni blocco tenderà a far sì che le persone possono solo vedere le informazioni prodotte in quel blocco e non possono vedere le informazioni al di fuori magari ci sarà qualche paese neutrale che farà da tramite di fatto se dipendete da servizi che sono al di fuori del vostro blocco di appartenenza potreste avere qualche problema quindi è meglio magari pensarci anche ora ok? quindi se potete utilizzate dei servizi che non sono schierati in questo contesto e terza opzione quella forse un po' più estreme quella non diciamo fattibile da tutti ma è una cosa importante soprattutto non tanto per i dati pubblici quelli che uno mette nei social che appunto uno li mette perché tutti li vedano più che altro per i dati privati quindi memorizzare le proprie password memorizzare le proprie foto private documenti privati eccetera eccetera se voi dipendete da da un cloud che ne so russo potrebbe essere che queste informazioni vengono lette dalla terza parte che magari non riuscite più ad accederci o perché la terza parte ha cambiato le regole oppure perché nel vostro blocco vengono bloccati i computer che fanno parte alla terza parte e cose di questo tipo quindi cosa potete fare l'opzione secondo me più sensata è quella del self hosting che è quello che parlo nei dettagli nella The Consapevole Academy molti dei servizi che voi utilizzate potete utilizzarli non su internet ma da un computer che si trova in casa vostra le cose non sono facilissime da fare ma non sono neanche così complicate perché nel frattempo le tecnologie per fare questo tipo di cose sono anche migliorate e appunto sono in particolare gli argomenti che tratto nella The Consapevole Academy e appunto queste cose hanno senso per i dati privati in particolare così che non correte al rischio che potreste rimanere tagliati fuori dai vostri stessi dati e sempre in questo contesto quello che vi posso dire qualcuno mi ha commentato sulla questione VPN allora io non vi consiglio nessuna VPN quello che vi posso dire è che la VPN anche qua non è la soluzione a tutti i problemi per esempio se voi accedete che ne so a Telegram con la VPN ma utilizzate il numero di telefono italiano vi vengono applicate le restrizioni che vengono applicate all'Italia quindi in alcuni contesti la VPN non serve in altri contesti abbiamo visto come anche se Sputnik e RT News sono state censurate in Europa potete diciamo bypassare questo blocco a livello DNS anche qua senza utilizzare la VPN ma utilizzando un DNS privato come vi ho fatto vedere nell'altro video e quello che vi posso dire è che veramente al male estremo si potrebbe diciamo ricorrere al fatto di ospitare certi servizi sulla rete Tor quindi quella utilizzata normalmente per il dark web quindi anche qua le tecnologie ci sono magari adesso le persone non le utilizzano perché sono complicate o ci sono dei sistemi più facili per ottenere lo stesso risultato ma anche qua ci sono tecnologie che in qualche modo ci permettono di continuare a comunicare tra blocchi senza doverci sorbire solamente la propaganda di un certo blocco nel quale ci troviamo e qui passo all'altro punto abbastanza importante che è quello dei social allora i social appunto per definizione sono dati pubblici normalmente quindi tutto il discorso self hosting ha senso fino a un certo punto e anche qua ci sono diverse scuole di pensiero diversi modi di reagire il fatto che telegram adesso si sia in qualche modo allineato agli altri social non è una bella cosa perché fino adesso era l'unico social che permetteva di far uscire delle notizie che non erano appunto quelle solo spinte nel nel mainstream di fatto telegram da un po' di tempo ha incluso la possibilità di di mettere la pubblicità la pubblicità la dovete pagare con qualche sistema di pagamento quindi anche telegram se vuole continuare a stare in piedi deve diciamo allinearsi per non essere lui stesso cancellato dai vari play store oppure da appunto i circuiti di pagamento digitali che ci sono attualmente ok prima di dirvi quali sono le alternative a telegram vi dico appunto quali sono le funzionalità più interessanti dei social ovviamente i social vi permettono di caricare testi audio video foto eccetera quindi una parte dell'aspetto social è quello dello storage quindi comunque sia queste diciamo chi è che vi ospita questi contenuti che siate voi o che sia una terza parte ha dei costi da sostenere dei server anche se voi non lo vedete ed è una cosa da tenere in considerazione c'è l'aspetto dei commenti che quando una piattaforma si diffonde inevitabilmente si diffonde anche lo spam quindi c'è il discorso moderazione sì moderazione no chi è che deve fare la moderazione la moderazione prende tempo la moderazione potrebbe essere censura anche qua è da tenere in considerazione e poi c'è l'aspetto dei voti che è una cosa che secondo me è meno importante però in alcuni contesti diciamo il numero di recensione il numero di voti è qualcosa che è importante quindi anche qua dipende poi dalla tipologia di contenuti che fate e dal tipo di interazioni che volete quello che vi posso dire è che in contenuti diciamo di nicchia il fatto di andare per strada e chiedere delle opinioni a delle persone che non sanno nulla dell'argomento fa sì che i voti diciamo della folla del pubblico siano quasi irrilevanti rispetto ai voti di comunità che invece sono focalizzati su una certa nicchia su un certo tema questo per dirvi che in alcuni contesti non tutti i voti sono uguali questo l'ho visto in particolare nelle criptovalute dove fanno più visualizzazioni i video delle persone che magari sono influencer che ne so di moda di altre cose più mainstream rispetto a contenuti fatti da persone che invece sono diciamo dedicate sul settore in particolare quindi questo fa sì che appunto la maggioranza dei contenuti che vengono spenti sui social spesso non sono contenuti di nicchia sono contenuti fatti comunque per il mainstream questo era il discorso appunto non basatevi troppo sul discorso dei voti ci sono altre cose che hanno a che fare col discorso social diciamo quello che vi ho detto fino adesso poteva funzionare anche per i forum i blog cose così tuttavia i social hanno aggiunto un altro strato che per alcuni è importante ovvero la parte discovery significa che in base alla vostra navigazione vi vengono suggeriti dei contenuti nuovi che potrebbero essere interessanti ovviamente questa cosa nel discorso forum blog internet come era 10 o 20 anni fa non c'erano questo tipo di interazioni e ovviamente la parte discovery è anche la parte quella che può essere utilizzata per censurare certe informazioni nel momento in cui è la piattaforma a suggerire quali sono i contenuti più interessanti noi non sappiamo se questi contenuti interessanti effettivamente vengono suggeriti perché sono interessanti o vengono suggeriti perché vengono considerati istituzionali e questa cosa si è vista anche su youtube o su altre piattaforme dove le informazioni diciamo di regime avevano a ragione o torto più importanza di informazioni che erano magari fatti da medici ma non erano persone che facevano parte diciamo della cerchia ristretta delle informazioni quelle da distribuire al pubblico quindi discovery è una cosa da tenere in considerazione l'altra cosa da tenere in considerazione sono i messaggi privati quindi i messaggi tra utenti e altri punti importanti sono appunto quello della monetizzazione quindi molte persone usano magari certi social perché hanno la possibilità di avere la monetizzazione diretta cose che magari con blog o altri sistemi ovviamente non non c'era la monetizzazione diretta sui contenuti e l'altro punto importante poi è la moderazione e questo è un punto veramente importante da una parte se non abbiamo moderazione abbiamo spam quantità incredibili di contenuti inutili persone che cercano di visibilità in diciamo contesti di più ampio respiro quindi vanno a commentare da persone che hanno già visitatori per attirare attenzione e dall'altro ovviamente c'è l'aspetto della censura che magari in questa moderazione anche delle informazioni legittime potrebbero essere potrebbero sparire proprio perché per un algoritmo per un umano vengono cancellate quindi anche qua in particolare la moderazione dei commenti cosa che comunque neanche youtube è riuscito a risolvere al 100% nonostante che richiede molte informazioni personali ok quindi cosa fare allora per quanto riguarda i messaggi privati il mio consiglio è quello di utilizzare sistemi che non chiedono diciamo il numero telefonico perché il numero telefonico è uno di quegli aspetti che viene già adesso utilizzato per censurare alcune informazioni dei social quindi in base alla vostra provenienza quali sono gli instant messaging quindi servizi di messaggi privati che non chiedono queste informazioni quelli che io mi sento di consigliare sono principalmente due che sono appunto session e briar adesso qua non vado nei dettagli tra l'altro briar da poco ha aggiunto anche l'applicazione nativa desktop per per linux cosa che prima non c'era ovviamente questi social vengono usati da meno persone perché comunque il fatto di utilizzare il numero di telefono faceva sì che uno riusciva subito a trovare i propri contatti questi social utilizzano diciamo altri sistemi per identificare le persone quindi vi dovete poi scambiare fisicamente o comunque in modo diretto il vostro contatto se volete arricchire la vostra lista di persone contattabili e quindi qua diciamo rientra un po' quello che succede sempre quando c'è un nuovo social solo che qui c'è il problema che nessuno vi riesce a trovare se voi non date direttamente il contatto a un'altra persona e rispetto diciamo telegram o altre soluzioni ovviamente sono un po' più difficili da usare in generale ma anche qua è da valutare per quanto riguarda invece l'aspetto social vero quindi le informazioni pubbliche anche qua ci sono due strade una che è diciamo la strada diciamo pseudoblockchain quindi cose social come steemit hive oppure odyssey per quanto riguarda il video e tra l'altro odyssey ultimamente con con questi varie georestrizioni comunque è riuscita ad attirare influencer nel nel proprio contenitore l'altra opzione che diciamo non è blockchain è più federativa quindi sono dei gestori di servizi indipendenti che si coordinano tra di loro e quello del mondo di mastodon che è un settore che per adesso non ho come dire non ho avuto la necessità di approfondire anche se ho seguito diverse parti a riguardo ma il discorso federazione è un qualcosa che aggiunge un'ulteriore complessità e non è un qualcosa che effettivamente è immune alla censura perché se voi leggete tra le linee guida di mastodon comunque ci sono delle istanze blacklist significa che alcuni forum diciamo alcune istanze quindi alcuni operatori di di questo servizio non non sono in comunicazione tra loro il codice ovviamente open source uno può decidere di essere distaccato dagli altri mastodon in circolazione ed è infatti quello che succede quelli che invece sono collegati tra loro possono interagire gli altri invece sono un po' dei mondi a se stanti alcuni mondi diciamo sono legittimamente magari isolati perché trattano temi che normalmente non ci sono sui social quindi violenza contenuti per contenuti non adatte ai minori cose di questo tipo di fatto quando si fanno queste distinzioni è molto difficile mettere una linea netta qua appunto vengono tolti cose che hanno magari persone contrarie a questa tipologia di religione poi cose che hanno a che fare con contenuti di estrema destra ci sono addirittura dei contenuti lgbt che vengono considerati non so troppo estremisti non so cosa non so neanche cosa significhi chi sono le lesbo femministe abiopeniche posso immaginarlo ma scrivete anzi non me lo scrivete nei commenti va bene così e tendenzialmente sono contenuti che hanno a che fare appunto estrema destra e contenuti che vengono etichettati come fake news a essere isolati dalle varie istanze di mastodon tuttavia le cose anche qua come dicevo prima è difficile tracciare una linea netta su quali sono i contenuti degni di nota e quelli che non sono degni di nota e questo è il discorso appunto della federazione nel senso che è difficile che magari ci sia sempre la transitività nel senso io posso essere amico di una persona e questo mio amico può essere amico di un'altra persona ma questo non fa sì che io mi senta amico con l'amico del mio amico giusto per farvi un esempio il più terra terra possibile e quello che viene scritto perlomeno in mastodon.it dice che è chiaro che mastodon non è stato creato per inneggiare alle azioni dei no green plus e no bucks ora qui piccola parentesi chi che mi segue sa come come la penso sul tema di fatto mi sembra strano che venga legittimato l'utilizzo della quarta dose per questa protezione invece se uno dice che probabilmente non ha bisogno di questa cosa viene etichettato come persona da isolare e qui finisce la parentesi questo per dirvi che la zona grigia è abbastanza grande quindi se le cose che volete condividere non rientrano nel nel fediverso quindi nel nel coordinamento principale di mastodon probabilmente dovete andare su altre istanze di mastodon e quella che viene perlomeno citata dai più è quella appunto di gab che anche qua è un utilizzo di mastodon che però non è associato con con gli altri e lo stesso vale anche per bio blu quindi anche qua diciamo sito di informazione italiana che viene spesso catalogato come controverso ok altra opzione quindi se non vi piace c'è il discorso social dove persone mettono like e condividono delle cose che non capiscono l'altra opzione è quello del ritorno al passato e tra i vari social vecchio stile quindi dove le persone invece di seguire altre persone seguivano argomenti quindi nei forum uno normalmente segue dei dei forum dei sottoforum delle tematiche e non delle persone singole come accade sui social il social che diciamo vecchio stile che mi piace di più è quello reddit che però anche essendo anche questo un servizio centralizzato e soggetto a regolamentazione non si sa fino a che punto uno può utilizzarlo tuttavia anche qua ci sono dei cloni open source che potete ospitare voi e per la vostra comunità qui ne vengono citati alcuni quindi voat che è la prima volta che lo sento raddit steemit che in realtà non lo metterei in questa lista perché funziona più diciamo come social classico ma su blockchain voten telescope che invece avevo provato in passato che è basato su meteor non so neanche se è più mantenuto di fatto anche qua vi potete creare la vostra comunità l'unica cosa è che appunto vi dovete ospitare voi questo servizio a casa vostra oppure su uno spazio web che siete voi comunque a controllarlo ok questa era la panoramica appunto sulla sulla situazione dei cyberattacchi e su quali possono essere delle alternative ai social come avete visto molto dipende dalle funzionalità che siete interessati ad ottenere e non è detto che le otteniate diciamo in una singola applicazione in un singolo in una singola piattaforma fatemi sapere nei commenti voi quali social alternativi state utilizzando e quali altri state considerando come sempre vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto questo video ed iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti ciao a tutti